Se il Senza Barconta ricomincia la rassegna letteraria per l'istante, versione estiva dei nostri autori, autori non colorabili. È uno dei pochissimi requisiti che vengono richiesti a tutte le persone che ci inviano i loro manoscritti. La differenza è che io e Elena l'ho mai cercata. Sapevo che sta facendo un nuovo romanzo e ho detto che io voglio presentare il tuo libro. E il Maginera Santoro arriva da Torino, anzi da Sant'Eno, la verità, faremo una presentazione molto easy, siamo tre amiche, oggi vogliamo fare una picchierata su Claire, questa tempesta, anche su Nizza, ovviamente, su tutto quello che è successo. Voglio solo dire due cose, io ho conosciuto Elena almeno 8-9 anni fa, sappiamo tutto tramite internet, tutto grazie a Facebook, presentavamo gli stessi, nello stesso periodo, alcuni libri e lei mi mandò il suo primo romanzo, perché ne sono innamorata, può essere? Sì, in realtà, prima che ero uscita e poi ne sono innamorata, il primo che ti avevo mandato, era il 10-9 già che avevo scritto, ho fatto nel cassetto, avevamo ancora, ed era preso la pena di nuovo madre. Perfetto. Ecco, questa è Elena, che passa dalla pena di morte, agli anni del bar di Framonté, che è un altro titolo, a Claire nella tempesta, quindi non poteva mancare nella schideria di Senza Bertoltaro. Io amo molto come scrive Elena, amo anche Elena, però non lo posso dire perché c'è il mio marito a casa, c'è suo marito qui e potrebbe essere un pasticcio, però capirete che è veramente una bellissima penna, sfortunato chi non è venuto qua e che non ha comprato oggi il libro, ma può comprarlo molto presto. Un'altra, appunto, il diamante, qui mi sta biondissima, occhi verdi, guardate quanto è bella, è la dottoressa D'Alessio, all'istante D'Alessio. Io non vorrei così, perché mi fa troppo concludere, perché vi accantate voi. Vi faccio parlare, perché non è stata sola? Perché voi dovete sapere che io stavo in partenza e ho visto Alessio su Facebook per alcune cose che aveva scritto, ho detto lei è quella giusta, lei può ritrarci a cantire meglio Claire. Vi ho scritto qualcosa, ci siamo capite al volo, ci siamo incontrate qualche giorno fa e ho capito ancora di più che è la persona giusta. Quindi ti credo Alessandra, presentati, raccontaci di te, perché Claire è in te. Allora, Claire è in me e in tutte le donne, in quanto donne. Quando appunto ci siamo sentite, la prima cosa che ho fatto è comprare il libro, perché ho ricevuto questo pdf e non lo sono rifiutata. Io ti capisco perfettamente, perché quando anche le mandano me da recensiere, io ti giuro che lo faccio e poi compro il libro e mi è piaciuto tantissimo. Sono entrata un po' nei meandri di questa vita di Claire, dove c'è tutta una prima fase in cui non emerge una sorta di suo desiderio più autentico. Cioè, qui è molto, è ben scritto, c'è una questione proprio del desiderio femminile, no? Cioè, cosa desidera una donna? Cosa desidera una donna, no? Ci dicevano? Cosa ci ha fatto anche il film. Freud è morto chiedendosi effettivamente che cosa desiderasse una donna. Sicuramente in questo libro c'è tutta una prima questione di questa donna che sembrava avere chiaro che cosa le desiderasse o cosa lei non desiderasse. Ora, non so cosa si può svelare o cosa non si può svelare. Non poi guardiamo troppo. Qualcosina si può dire. Per esempio, Claire è stata una singola inventente per anni. Claire ha un suo prequel. Dico una cosa, Claire nasce quasi per caso come antagonista in programmi della serie, perché queste future quadri che sono i personaggi che hanno la spalla in questo libro qua, non sono i protagonisti, ma in realtà non è tutta una saga loro, tutto dicendo loro. Claire compare abbastanza presto e poi ricompare ed è inizialmente ancora l'antagonista, perché ha messo il luogo di suo pato, il padre diceva se lo voleva prendere lei, non c'è riuscita, si è arrabbiata. Quindi è una ragazza apricciosa che è abituata anche a prendersi per il suo luogo per il paccio. Quindi lei nasce così, nascere. E poi pian piano però nei libri, e in questo libro che è un po' suo, ha avuto una storia sua, un po' suo, perché poi con un'autrice comincia a prenotarmi, perché è così bella, perché è così, strozza. Perché Claire è, fra quel resto è sverbe tante volte, quando la persona attesta anche con gli altri. Io vorrei farmi una parola, perché io, come dire, ma faccio tantissimo, capriccio, noi parlo di questo capriccio, è come se Claire si sia ancora in uno stadio di, come dire, non maturazione effettiva, no? Di donna, molto volumile, capricciosa, e ha detto quello che lei voleva, non ciò che lei effettivamente desiderava. non arriva ad un vero e proprio desiderio, cioè nella seconda parte del libro si vede che ad un certo punto a qualche spirale di desiderio viene fuori. Da un evento grammatico, tra virgolette, io non conosco questa Claire nella sua infanzia, da psicologo mi sono chiesto, a che tipo di infanzia ha venuto a me? Come mai non ha raggiunto quel grado di maturazione tale per cui... Ovviamente perché intanto è piena di soldi lei, quindi tanti spizzi si è potuti levare senza neanche domandarselo. Fa parte, anche se poi su questo modo insisto, che non è un'upper class inglese, che in inglese, quindi in l'interno, sono abbastanza classisti, se hai detto stai bene. Poi lei è entrata nel lavoro, quindi ho avuto la sua realizzazione lì. Quello che racconto anche un po', non ero mai raccontato in realtà in altri romanzi precedenti, ma... è un... come dire, uno screen. Lei ha avuto un tumore da ragazzina, quindi ha avuto anche dei problemi, è finita che è un'isterectomia, quindi le mie stelle. E questa cosa qua però lei se ne è fatta abbastanza scivolare il bosso, cioè non l'afro. Non l'afro. Perché Claire è campionessa di evitamento, ovviamente. Lei è una che non vorrebbe mai soffermarsi su nulla, lei vorrebbe passare oltre cardio, come dicono gli inglesi, non vorrebbe domandarsi troppe cose, lei vuole andare avanti, come già dicevamo. Claire è campionessa di evitamento. Claire è una persona che, se può appuntare i problemi, preferisce. Se può passare avanti a qualcosa di più gradevole, che la pagna di più, anche momentaneamente, lei lo fa. E per me, sono completamente l'opposto in questo, che sono molto introspettiva, è stato difficile rendere questa cosa, comunque ci ho dovuto lavorare, perché io invece non scaderebbe fino alla fine, e Claire in questa sua superficialità, quantomeno apparente, andava resa così. Io intervengo io, interrompo un po' lo striduglio, perché è stato veramente schiacchiando con due amiche che hanno perso di vista la casa. Ci sono dei libri prima di Claire, sono molto belli e sono molto importanti, perché, come autrice, tu riesci a mantenere un filo, e ogni libro è una storia nuova, quindi anche Alessandra, per esempio, che non ha letto le tue cose presenti, ma so che vuole riparare anche a questa mancanza, riesce ad avere chiara la storia. Ma ci sono tutti gli altri libri ulcenti. Ora io, come critico, ti voglio chiedere, ma quando hai scritto i primi libri, avevi già idea che sarebbe arrivata Claire o ti è capitata nei piedi? Perché sai, tu li bravi dicono, in un romanzo non ci dovrebbero essere più di sette personaggi, cinque, l'ideale sette, insomma, tu ne hai tantissimi. Ma perché a me piacciono i romanzi corali fondamentalmente, già in questo ce ne sono meno rispetto ad altri, perché ce ne erano molti di più, cioè qua bene o male c'è lei, il fidanzato vecchio, quello nuovo, il cugino, e poi gli altri che sono spalle, veramente, non sono personaggi che abbiano una loro storia. Oggi, però prima bisogna una storia. Prima ce ne erano tanti, ma io mi diverto così, cioè ognuno poi ha le sue piccole gratificazioni. Però è un bello stile, è un bello stile. Qualcuno non piace, alcun altro evidentemente sì. A me piace mettere insieme cose che non c'entrano niente, cioè apparentemente, e adesso vediamo cosa succede, se io faccio interagire cose che non c'entrano. Per esempio, il mio esempio più eclatante è un altro libro che è Il tesoro dentro. Non so se tu l'hai letto Il tesoro dentro, forse. No, parliamo così, poi la prossima volta. Il mio tesoro dentro ci sono due personaggi che sono ispirati a persone reali che io ho conosciuto. Uno è uno scrittore danese che a un certo punto della sua vita, per motivi suoi personali, ha deciso di venire a vivere a Torino. L'altra è una persona, una donna, con cui ho avuto a che fare un po' di più in passato, che è stata diagnosticata stizofrenica, quindi era una morte in Italia, ecco. E queste due persone tra di loro non si sono mai viste e mai hanno interagito. Allora, io mi sono ispirata a queste due persone e ho creato due personaggi. Ovviamente quello che succede, poi non c'entra nulla con loro vita, chiaramente. Ma, fate di dire, vediamo un po' cosa succede se li mettono nella stessa storia. Ed è venuta fuori una storia che, io dico, come avevamo detto, è originale, comunque. Perché poi tutto il suo sviluppo è anche un po' un giallo, perché si chiama il tesoro dentro. Questo tesoro ha significato sia metaforico, sia proprio anche fisico, perché c'è un tesoro da trovare. Quindi è poi una caccia al tesoro anche. Come Plurne la tempesta, che è una tempesta ulteriore, ma è una tempesta di proiettili. che si trovano, così. E quindi mi diverto proprio a prendere cose tanto diverse e tanto apparentemente incompatibili e dire, vediamo se li mettono nella stessa storia, che cosa capita. E secondo me, cioè, io faccio questo perché mi diverto a far così. Ma ho visto che effettivamente, rispetto a certi cliché standard di storie standard, bene e male, ripetute. Sì, perché serve molto facile. Quando sei in una produzione o nella tua, scrivi veramente tanto. E' molto facile cadere nel banale. Però dalla tua c'è il fatto che sei una persona molto intelligente. e io che ti conosco da un po', anche se da internet, da Facebook, però c'è modo di capirsi. Ma ti documenti molto, prima di parlare, che non è da tutti. Lo potrai confermare. Sai sempre quello che dici. E questo si legge molto bene. Io, purtroppo, spesso non riesco più a leggere un libro, soltanto col piacere di leggere. Devo sempre cercare, ormai sono in deformazione professionale, cerco sempre il capello. In realtà, tu scrivi molto bene anche dal punto di vista tecnico. Cioè, non fai errori, non fai defusi. E mantieni sempre l'attenzione alta. Anche se, come dicevamo all'inizio, ci si perde un po' tra tanti personaggi, tanti nomi, anche stranieri. Passato lo stordimento, poi. Passato lo stordimento, emerge qualcosa. Emerge qualcosa. Io poi chiedo a te, Alessandra. Noi, a un certo punto, arriviamo a Nizza, perché questo personaggio scappa, cioè, nel sinossi, lo possiamo dire, scappa da suoi interrogativi, sue mancanze, o forse ciò che le sente essere una mancanza, forse lo è, forse non lo è. Arriva a Nizza e si scontra, anche fisicamente, con una tempesta emotiva interna e di proiettili, perché nel bel mezzo dell'attentato di Nizza, che poi ha fatto 80 morti, 80 morti, perché uno è morto, la metà del mese, a me viene da più. Il giorno è stato facendo una presentazione proprio su quello che abbiamo parlato. Io, se lo pensavo, ci sto male, perché è morto di crepa cuore. E noi, Elena ha una delle sue capacità ai punti di mettere insieme un racconto così leggero e frivolo di una civetta. Apparentemente leggero e frivolo. Sì, però all'inizio, quando arrivi a Nizza, hai ancora, almeno, la mia percezione è ancora questa ragazza che è quasi antipatica, come diceva lei prima. A un certo punto mi sono chiesto, ma perché hai abbandonato Futura per questa Clea che mi sta con antipatica? Poi, ovviamente, lo capisci, ma volete arrivare. Cosa succede a una donna, a una persona, ora va a dire di donna? A una donna, quando si trova in quel momento, cioè di grave problema, di tragedia, quando la tragedia va dentro. Quali sono le scelte? Si può generalizzare. Non esiste la donna, ma esistono le donne. Quindi, donna è diversa da un'altra. Questa donna, che appunto, inizialmente era una donna apparentemente superficiale, ma era superficiale, aveva deciso di non affrontare tutta una serie di questioni. Ed è addirittura fuggita da quelle questioni che lei non voleva affrontare. Finché ad un certo punto si imbatte in questa tempesta che inizia con un evento ben preciso. Perché già nella fase precedente, appunto, lei aveva anche preso delle decisioni rispetto alla sua nuova relazione, eccetera, eccetera. Quando lei tocca il reale, a livello proprio emotivo, quindi succede quello che succede all'inizio, lei si ritrova in ospedale con i feriti, si ritrova nel mondo reale, che non poteva più fuggire dal mondo reale e neppure dalle sue emozioni. Lì mette in campo le sue risorse, voglia che lei non aveva voluto vedere, non aveva voluto considerare. E che le conosceva o non le conosceva secondo te? E in parte... Mezzo e mezzo. Sì. Io credo che in parte le conoscesse. E forse aveva anche paura di metterle in campo, non mi sono fatta questa idea. Sì, probabilmente un po' sì. Dico probabilmente perché poi i personaggi tutto sommato vivono di vita loro, quindi noi li guardiamo. Ma magari ci sono dei segreti anche per loro che noi autori non vediamo. Sì, perché lei alla fine ringrazia poi chi è conosciuto perché l'ha fatta sentire inutile così com'era. Lei per male in questo momento di bisogno generale e a un certo punto le scatta qualcosa per cui non si domanda più cosa deve fare, cosa non deve fare, non fa e basta. Ma inizia a farlo in maniera molto titubante perché comunque lei ha sempre lavorato come impiegata di lusso diciamo. Giorgio ti si sente. Flaire ha sempre lavorato come impiegata di lusso diciamo, quindi un buon lavoro, una vita semplice, facile. Con i bambini lei non pensa ad avere dimestichezza, si trova nell'ospedale pediatrico nel Val di Nizza che dice adesso io cosa faccio, cioè io conosco i bambini, ma non sono capace o no. E poi invece si rende conto che quello che lei sa fare già di suo senza inventarsi nulla di più, quindi anche questa informatica in cui lei è molto brava, potrebbe essere proprio quello che serve in quel momento. e quindi un expert nei filosofemi, ma agisce. A me piace tantissimo una commedia che è La rivincita delle bionde. Non so se è veramente presente. Non è quella, però ci manca. Allora, La rivincita delle bionde è una commedia leggera, brillante degli anni 90 credo, con Reese Witherspoon, non so come si pronuncia bene il suo nome, un'attrice bionda, molto carina, molto... Praticamente questa ragazza qua rappresenta proprio a livello di stereotipo la bionda americana, la bionda americana non è mai ritenuta molto intelligente, no? Quindi quella che ha al college, a tutti, non al college, al liceo, a quel che è lì, tutte le amiche vestite di rosa, con il cagnetto di rosa... Lei anche sembra avere una carriera nel mondo della moda, no? Ma ha un fidanzato che la lascia e va ad iscriversi ad Harvard a fare una rispondenza. Allora lei per seguire questo fidanzato va ad Harvard anche lei, riesce a farsi a mettere oltretutto anche un pezzetto intellettivo molto male. All'inizio lei sembra assolutamente un pesce con l'acqua, perché lì sono tutti inquadrati, tutti seri, la ragazza nuova è bruna, con i capelli lisci, sono tutti di qualche computer che prendono appunti, lei arriva con la penna rosa piena di piume, il taccuino e tutto, e non c'è niente. E a me piace moltissimo questo film perché mi sento come io al Politecnico di Torino, io ero uguale, io ho fatto ingegneria e tutti i miei colleghi più maschi, ma anche femmine, molto più seri di me, io arrivavo lì con gli orecchini bizzarri, col padronino, con una cosa e l'altra, e prendevo i miei appunti così. Quindi neanche io non incarnavo lo stereotipo dell'ingegnere. Comunque nel film della Winter School cosa succede? C'erano tante cose, alla fine lei riesce a diventare un avvocato e a vedere successo proprio perché vince una causa perché lei era l'unica che sapeva che una non poteva lavare i capelli dopo la permanente e allora non poteva aver ammazzato quello che doveva aver ammazzato. E vieni lì che ti dico, guarda! E nessuno dei suoi campocolleghi lo sa! E quindi quella era la regola basi della cosmetica in cui lei era. E questa cosa mi ha colpito tantissimo nella sua leggerezza, perché appunto è una commedia veramente molto carina, molto leggera, ma con una grandissima verità. Cioè noi riusciamo a fare cose buone secondo me se tiriamo fuori quelli che sono i nostri punti di forza. Io non sarei mai diventata l'ingegnere inquadrato che c'era come stereotipo, ma come me stessa, quindi tirando fuori quello che puoi fare io. E anche Flair capisce questo. A un certo punto capisce che può fare delle cose buone essendo se stessa, quindi mettendo a disposizione quello che lei sa fare. C'è un punto del libro in cui non so, Alessandra, se è capitato anche a te, in cui verso la fine, dopo l'attentato, lo cerco di non spoilerare troppo, non condivido affatto una decisione di Claire rispetto al suo compagnino che sta anche attraversando fisicamente un momento difficile. Mi sono chiesta, tu Elena, come ti saresti comportata nella stessa situazione? Allora, quello che succede è che lei è talmente focalizzata su questa cosa che effettivamente non pensa più a nient'altro. Quindi rimane il nostro pollo. Io non so se mi comporterei uguale, spero di no, ma comunque lei è anche una situazione sentimentale particolare, quindi magari se mi capita un accidente così, non so se non è una situazione sua, non lo so. Però lei è molto focalizzata sul contesto, più che su qui ed ora. Esatto. E lì voglio il tuo parere. Una persona, una scantola di donne, focalizzata sul qui ed ora, più forse che su se stessa e su quello che è giusto. Cosa sta affrontando in realtà? Cosa sta affrontando? Beh, forse non sta affrontando. Se focalizzata sul qui ed ora non sta affrontando. È come se agisse per inerzia. In realtà non sta affrontando, sta evitando di affrontare. Sta evitando di affrontare. Lei era un evitante, poi ha dovuto affrontarlo nel momento in cui questo fidanzato arriva da lei, è lui che va da lei e a quel punto le sfodera tutto il suo coraggio. C'è anche un'altra cosa di cui avevamo parlato, che io ci ho visto con questo libro e con questo personaggio. Tutta la questione del materno, della maternità, la questione dell'istinto materno, del fatto che non esiste istinto materno nelle donne. Cioè l'istinto materno ad appannaggio dell'universo animale, ma non umano e femminile. E tu mi avevi chiesto... No, tu... Non c'è istinto materno, non c'è in assoluto e non c'è in questo personaggio. C'è un po', a un certo punto, un saperci fare con un bambino. E la cosa che a me ha colpito tanto e mi è piaciuta, che il libro non termina su un lieto fine, sulla piena realizzazione di questa donna, ma... Come dire... No, ma ci lascia ancora con il fiato sospeso su quello che sarà di questa donna, sulle sue decisioni. Ce la farà o non ce la farà? Io credo che ce la farà. Cosa faccio? Allora, io punterei di tutto sul fatto che lei ce la faccia, perché ha cominciato a avere consapevolezza delle sue risorse e a prenderci in confidenza, che non è poco. Io, che sono un'amante di Patrick Futura, ho trovato simpaticissimo ancora Patrick, ma io lo conosco da te. Non ce l'ha fatta una. Devo dire se ne ti piace. In questo libro, lo so, io ho una passione per Futura, perché l'ho vista crescere. Era una pupa nel primo anno. Ma adesso uscirà il sesto libro della serie, magari la più prossima. Ti vendi conti. Ecco. A cui sto rilavorando, perché la sto risistemando. E questa stiamo a me piace. No vabbè, io ancora ho un libro tuo che non mi piace, non l'ho trovato. Lo cerco, eh. Ti l'ho portato, l'ho portato in quinto. Ah, posso. Così, facciamo mica niente. Allora, Eliana, tu in Facebook hai scritto che sei un racconta storie, Storyteller. Si, Storyteller. Quando tu non le racconti e basta, tu le scrivi? Le crei? Si, si, si. Anche se mi hai detto che i propri assaggi vivono di vita propria. A volte si, si, si. Sono cattiva nelle due parole. No, rispondo qua. Che dirti? Sono Storyteller nel senso che ci sono autori che mi rendo conto che stavano molto meglio di me, nel senso che magari hanno una prosa più raffinata oppure usano tante metafore. io adesso ho iniziato un po' a metterlo ogni tanto. Ma è obbligatorio? E per certi editori a volte si. Si, si. Per certi editori si. Guarda, Eliana, quell'anno... Ha uno stile semplice, come per dire... Ma io veramente dico, ho tolto via 3500 parole per frase per riuscire magari... Forse è questo che viene trascinando, che in un mondo così complicato, ma non complicato perché è incomprensibile, complicato perché si complica inutilmente la vita, una persona che ci racconta una storia che noi non conosciamo, ma ci racconta bene, in maniera naif, passami il termine per semplice, a me dicevano che scrivevo in modo naif e non capivo cosa... E' un quadro... Ma sai come... Seconda, invece non era semplice. Un proprio stile. Oh, caspita, ma tu hai uno stile. Un tuo stile. Bello, brutto, non mi trasse più. Sullo stile ci ho lavorato anche tanto, ho fatto anche dei lavoratori di scrittura negli ultimi due anni, quindi comunque ho anche tolto certe cose che poi ho visto che erano degli errori, ecco. Poi magari non tutti li notavano, non era magari una cosa efficiante la storia di sé, però magari mi poteva ancora snellire, quindi rendere il tutto più fruibile. Quindi su quello ci ho lavorato, con questo libro siamo già abbastanza a buon punto, continuo a lavorarci, quindi quello che si rasperga sia ancora migliore in questo senso qua. Però diciamo che quello su cui punto tanto sono proprio le storie particolari, ecco, gli intrecci un po' insoliti, più che magari appunto sulla parolina o sulla forma. me l'hanno detto, ci ho pensato. Ci sono tanti autori che magari li mettono nel profilo a picco pallo scrittore, scrittore magari mi sembrava un po' troppo, storyteller sì perché le storie libero. Guarda, io di solito, durante le presentazioni di Sé senza farcord, chiedo sempre l'autore se si sente uno scrittore. Non lo chiede a volte. Lo chiede da nessuno. Secondo te è una scrittura? Assolutamente sì. Sì. E sono sicura che lei sa cosa vuol dire? Sì. Tu chi ci senti? Magari dipende dalla definizione di scrittore, su cui anche se si può dibattere. chi dice scrittore è quello che campa di scrittura, non campo di scrittura, non campo di altro. Però, oppure scrittore che ha raggiunto un certo spiro, una certa maturazione, una certa consapevolezza, non lo so, non sono io che devo dirlo. Però mi piace raccontare, continuo a farlo, in quel senso sono io che come credo, non faccio tante domande. Sì. Il mio augurio, e credo che Alessandra assumirà questo, è che tu ti senti sempre un'emergente, mai arrivata, ma sempre che abbia in te la voglia di andare avanti ed emergere. Quella che poi, secondo me, trova Clara a un certo punto, di conoscersi, capire chi è lei, che cosa vuole veramente. Come diceva giustamente Alessandra, in un altro altro, alla fine del libro, ti chiedi ma poi dov'è, dov'è il resto? Lo vuoi sapere? Spero non in maniera morbosa, nel senso è anche un'apertura morbida, non so come dire, no? Io leggerò anche gli altri. Questo mi è piaciuto perché descrive molto bene la questione femminile, secondo me. me lo sapevi? Lo sapevi? No. No. Perché poi lei, nel momento in cui si prende cura del bambino, lo fa, sembra un po' che vuole... meno male, ecco. E poi bisogna capire cosa succederà dopo. Lei sta prendendo confidenza con questo bambino, sembra che le cose vadano anche bene. e lo fa in maniera serena, naturale, senza farsi troppo in umane, così come viene. Probabilmente questo accade anche perché non è un figlio che lei ha messo a vivendo. Sì. Sì, infatti lei all'inizio, diciamolo, tanto siamo qua, chiede un affitto temporaneo e poi, nel momento in cui prende confidenza... Ma compratelo allo stesso libro. Sì, ma c'è tanto altro. chiede un affitto temporaneo e poi, proprio durante questo affitto temporaneo, ne viene l'idea di continuare questa cosa perché le sta piacendo. E quindi chiederà, non so se poi come andrà a finire, in quel senso, chiede poi un affitto definitivo, un'adozione. Ma lei non è partita dall'idea che non l'abbiamo figlio a tutti i costi. Nel senso lì, esatto, cioè... Ma poi succede che lei comincia a prendere confidenza con dei suoi desideri un po' più autentici, no? Quindi anche quest'uomo che resta un po' sullo sfondo, non si sa, no? E' come se riconinciasse ad un certo punto, però a partire da ciò che la riguarda in maniera un po' più intima. Cioè inizia un viaggio introspettivo ad un certo punto. Cosa che lei aveva completamente messo da parte prima. Io non so che dà Fabia questa cosa. Ma che domanda vorresti fare ad Egera? C'è una domanda che ti è uscita fuori da Claire? O anche, cioè, leggendo Claire su altro, su di lei, c'è qualcosa in particolare? Che posso fare? A massimo tagliamo! Quanto c'è di tuo in questo personaggio? Allora, i capelli rossi. Mi chiedono anche se sei in copertina, poi sono io. Quella lì no, è più magra quella. E i capelli rossi. Poi c'è una cosa di Claire, che è anche mia, che ha una formazione culturale un po' ibrida. Perché lei sia informatica che un po' artista, ecco. E io sono ingegnere e scrivo e quindi questo misto di cose mi piace. E poi ha una forza di volontà tutto sommato. La determinazione che io ho anche, ecco, questo carattere determinato tutto sommato è anche un po' mio. In altre cose, invece, in Claire non mi ci specchio proprio. Perché questo suo evitamento, questo suo non volere mai approfondire, mai farsi certe domande, invece non è il mio approccio, anzi esattamente il contrario. E poi alla fine sono subentrata in Dio quando tu dici è diventata introspettiva. E poi ho preso il Dio. Ma non le rendi. Adesso ci pensi. E' arrivata lei. Esatto. Figlia mia. I personaggi sono sempre un po' figli. Allora, io ti chiedo ancora... Io ti chiedo ancora di raccontarci un attimo dell'editore, perché spesso noi dimentichiamo gli editori, però devo dire che il tuo editore, che non conosco, che non mi maga, non mi spegna in nessun modo, è stato molto presente sui social, condividendo, sempre con molta attenzione nel tuo libro. Allora, nella casa di Cristo. Il titolare si chiama Matteo Moraglia, di Leucotea, che è una casa di Sanremo, è un ragazzo abbastanza giovane, c'è anche un editor che si chiama Ilaria Calicchi, che hanno curato proprio la realizzazione fisica del mio libro in primis, dopo aver scelto il testo da pubblicare. Sulla copertina mi hanno lasciato libertà, perché infatti l'immagine l'ho proposta io. E poi sono dei ragazzi, appunto, molto social, molto presenti, molto sventi anche nella distribuzione dei libri, quando c'è da inviare qualcosa, loro sono molto attenti in questo. Ma la cosa più bella è che sono anche al Salone del Libro di Torino e infatti quest'anno c'erano, con il loro stand, la mia Claire, era oltre che nel Collettivo Scrittori Uniti, che è un gruppo di autori di cui faccio parte, patrocinato, perché non è un'associazione, non c'è un presidente, ma è patrocinato da Claudio Secci, che è un autore anche di Alta vicino a Torino, anche lui. In questa associazione andiamo sempre al Salone di Torino, però quest'anno c'è anche questo editore. e quindi mi ha fatto molto piacere, è veramente il primo anno in cui, oh, meditore, il Salone di Torino, posso fregiarmi di questa cosa, dottarmi di questa cosa. No, la domanda Viola, voi fate questa, la ritroveremo Claire a saperlo, potete dire lei, ecco, perché dipende se ci sarà qualche altra storia da raccontare in cui lei possa viverla, ecco, volentieri, se no può anche rimanere così. Mi hanno chiesto tante volte il sequel degli angeli del bar di fronte e io ho detto, no, 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 non c'è niente da dire, che i personaggi di come, ma sta finito, Claire, ma non so. Allora, io, quando leggo i libri, metto i post-it nei punti che mi hanno apparticato, ce ne sono un bel po', insomma, ti assicuro che i punti si è portati via all'ondata, vedi che ci sono l'ondata, io stavo leggendo questo bel libro, ho lì, è alto 25 centimetri, ho iniziato a leggerlo in a piedi, poi è venuto come nave, e poi sul telo, e poi è arrivato a nulla, e me ne ha volto via, però c'erano tutti i miei post-it, e quelli più belli, come vedi, non ci sono più, però ti assicuro che ci sono stati tutti che mi hanno colpito tantissimo, e, cosa che, di solito non accade, mi hanno colpito le notte dell'entore, di solito, o non le leggo neanche, sinceramente, devo dirti una cosa negativa, ogni tanto qualcosa di negativo, diciamocelo perché stai, non mi è piaciuta neanche un po', la sinossi del libro, ah, io quando leggo la sinossi, questa, quella che mi è arrivata all'inizio, insomma, quando io dicevo una sinossi, in base a quello, decido se presentare il libro, o meno, no? Non posso leggere tutto un libro per poi dire no, e nel caso di Elena, ripeto, sono io che l'ho cercata, e quindi anche senza sinossi, ma se avessi dovuto lei decidere, in base a la sinossi, non l'avrei presentato il libro, perché secondo me non focalizzava i punti, che poi sono quelli di interesse, che ci ha detto Alessandra, che ho trovato anche io, per recuperarlo. Sì, perché se non si fermava la sinossi, o le prime dieci parti, non è prenduto. Io amando Elena, so che lei mi arriva, però magari non mi arriva subito, perché subito? Non subito, no, prendiamo le cose. Poi quando arriva, ok, però la sinossi mi ha lasciata un po' così. Però poi, dopo che ho letto tutto il libro, ho letto Le notte dell'autore, e ho capito un sacco di cose che non avevo capito prima. Una, tra tutte, è perché inizia. Inizia poteva essere anche in Bruxelles, sono posti che conosco bene, perché ci siamo andati tutti gli anni, per un certo numero di anni, ogni estate, passavamo di lì, quindi la conosco molto geograficamente, e quando succedono le sciagure nei posti che si conoscono, non dico che siano in casa mia, perché comunque è un luogo di villeggiatura, tutto sommato, però avevano anche dei conoscenti di scrivere l'email e dire come va, non è successo nulla, vabbè, ok. E anche Bruxelles, quando sono stato d'attentato a Zaventem, io ero andata a Bruxelles, era la qualunque volta che ero andata un mese prima, e si respirava già un po' quell'aria strana in quel posto lì, proprio d'attentato, avevo parlato con certe persone, che mi hanno raccontato un po' la situazione, i tensioni anche che c'erano in quel momento a Bruxelles, avevo scritto un articolo per il blog, che mi collava di un scrittore che mi ha portato accanto, e poi un mese dopo c'è stato l'attentato, mi ha detto un vaticino a questa cosa qua, che l'avevo praticamente prevista. E quindi siamo andate poi a Nizza un mese dopo l'attentato, perché eravamo di nuovo lì, e abbiamo visto quel che c'era, abbiamo visto l'aria che si respirava, non mi è piaciuta tanto quel punto lì, perché, non so per chi conosce Nizza, c'è questa promenade d'Anglais, che ha sul mare, proprio una camminata lunghissima, con dei, non so dei tendoni, una struttura, con dei tetti leggeri bianchi, delle panche bianche, e noi ci siamo sempre fermati per fare un po' di picnic, di fronte c'è il mare, però c'è questa ombra, semi-ombra, i bambini che scorrazzavano su e giù, e noi ci fermavamo lì a fare questo picnic, siamo tornati, un mese dopo l'attentato, e abbiamo fatto il picnic. in quel momento lì c'erano le guardie armate, che ho anche inserito nel libro, un personaggio le racconta, giravano 4 a 4 militari, giovanissimi tra l'altro, e adesso poi uno psicologo mi dirà, se un ventenne con un mitra lungo così, che porta su e giù ad altezza di bambino, nel momento in cui arrivasse un invasato qualunque, che comincia a far casino, non si mette magari anche a sparare, che è anche peggio di quello. Quindi c'erano questi militari, che andavano assurdo giù sotto il caldo così, per uscire all'altezza della testa del mio figlio, e questo clima un po' di tensione, tutto sempre concentrato su questa promenade, che è il luogo dove c'è stato questo tentato. Il resto della città tutto sommato andava avanti, più o meno in maniera normale, e anche lì non vi domando, o lì sono scelte la security, l'intelligenza, non lo so, però se io tentatore, dovesse fare un attentato, ecco lì ci sono le guardie, vado da un'altra parte, dove non c'è assolutamente nulla. Cioè, capiamoci, ci voglia, proprio un genio. Comunque l'aria non era bella, il posto ce l'avevo comunque nel cuore, tornata poi in Italia, ho cominciato a scrivere questa storia. e anche lì, mi sono domandata, nell'attentato di inizio, cosa ci mettiamo? Ci mettiamo una che scappa e va proprio lì, come la leggenda di Samarkand cantata da Lecchioni, quindi uno cerca di scappare mille miglia dal suo problema e non si rende conto che sta andando proprio dove non doveva essere, in bocca a un problema ancora più grande. E quindi, come Samarkand, l'ho fatta arrivare, l'era ad affrontare un destino che era lì per lei e lei non lo sapeva ancora, ecco, e tante volte non si può scappare da questo destino, però... Io voglio chiudere chiedendo, a meno che non ci sono domande dal pubblico, o domande, le altre domande, qual è la parte del libro più difficile per te? Come scrittore, come persona, come donna, come magari la parte di niente, è la parte più difficile, perché io con i post-it posso aver capito, poi l'onda me li ha portati via, quindi non lo so, questo è il punto. Dove hai sofferto? Ma, allora, rendere l'attentato di per sé, e finché si rende una storia d'amore e uno che nemmeno mai costruire quel che diamo il cuore, diciamo, cioè, è una faccenda soggettiva, quindi, comunque, uno la sbrogli, tutto sommato, rendere l'attentato che era comunque un fatto reale, un fatto accaduto, e qualcuno mi ha detto a suo modo un romanzo storico, una storia dell'altro ieri, però sì, nel senso che sul fatto di cronaca, la storia moderna, la storia moderna, per lo fatto di cronaca ho dovuto innestare una vicenda di assoluta fantasia, ma che si innestasse in maniera perfetta, non mi andava ad inventare in quel senso di far accadere cose che non erano, io sono voluta restare molto fedele alla cronaca per quello che ho ricevuto io, quindi mi sono documentato tanto su quelli che sono stati, articoli di giornale, qualcosa non ho citato, su quelli che sono stati gli eventi, i fatti, i medici che aggiustavano ossa per ore, 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 sono andati avanti fino allo estremo, poi sono stati intervistati, dopo, lì, una delle figure che ho inventato nasce proprio da questo, nasce da un medico che diceva se siamo qua aggiustiamo qualche certo da aggiustare, però chiaramente io non ero lì, quindi qualche dettaglio l'ho dovuto inventare, non mi resterà sempre il dubbio di non averlo dipinto adeguatamente quello, quello è ciò che non posso sapere e come scrivevo poi nel finale, non so se questo, nei commenti finali, non so se questa era una delle cose che ti era piaciuta, quando c'era stata l'alluvione nel mio paesello, i bambini avevano poi fatto il disegno dopo e i bambini del paese di fianco che avevano un torrente come noi, avevano dipinto questa alluvione con una mare di acqua azzurra, azzurra, proprio azzurra, invece il mio fratello che faceva le elementari in quel periodo lì, l'ha disegnata, lui essendo proprio di Santena, ha disegnato una marea di acqua marrone perché quest'acqua era fangosa, era inquinata, era sporca, era proprio una schifezza e lui l'aveva vista perché era lì, aveva inondato tutte le case, tutta la piazza e il paese è fatto un po' a conca anche se non si vede, ce n'era per dei metri ed ha lasciato una sporcizia, una cosa che non... io sono venuta a stare là con un fango, è vero, non ci conoscevano, io facevo il primo anno di università, siamo stati a casa mia e non è stata colpita perché è un po' più su casa mia, c'è casa dei miei, che abitavano con i miei genitori, però siamo stati senza acqua e senza telefono e senza luce e senza riscaldamento per una settimana e quindi... e non c'erano i telefoni perché erano 94 e quindi poi quando sono ricomparsa i miei amici mi hanno detto sei viva? ma non lo sapevano, cioè io non potevo telefonare, non potevo comunicare e loro non sapevano se io avessi avuto dei problemi oppure no e quindi per tornare al libro l'ansia è sempre quella di non avere dipinto l'acqua abbastanza sporca, ecco, parlare di un attentato in cui io per quel fortuna non c'ero Alessandra, l'acqua l'ha dipinta sporca o no? secondo te? l'attentato si sente? si sente, era abbastanza sporca, neanche io posso dire se era sufficiente perché sporca, però era sporca, era maraviglia, quindi brava, hai fatto l'acqua marrone, con sporcizia l'abbiamo messa, io vi consiglio di leggere Elena al di là di Claire, anche Claire, ma non se vi capita di trovare Claire, oggi leggete Claire, ma se riuscite cercate di seguire tutta la vita dei suoi libri, anche perché vedete la crescita dell'autrice, perché sei un scrittore, sei un'autrice, la sua crescita è bellamente netta, anche se i suoi personaggi sono cresciuti insieme a lei e sono più delineati, se ti capiterà di leggerli, sicuramente sì, riuscirai proprio a vedere i volti di Basic, di futuro e degli altri, ma nera sempre più nitida e quindi per quell'occhio le faccia la corte, inserà. allora io direi che se volete dire qualcosa sennò andiamo a prenderla per il video. Come preferite io. Allora non è meglio questo che abbiamo parlato abbastanza. Grazie a LibriTV che è sempre con noi, questa è Seisint Barcode cioè la segna letteraria degli autori non omologabili e questa è Elena di me adesso un po'. Grazie mille Sheila, grazie a Seisint Barcode. Grazie a tutti.